benvenuti o bentornati sul canale di superallan siamo qui oggi con un nuovo video e che video chef infatti sono curioso della tua reaction già sta a metà no sangue ragazzi siamo tornati qui sul campo da calcio campi marianna che ringraziamo ovviamente vi lascio le info in descrizione vedeteci bei campi anche da paddock allora che video oggi come avrete letto dal titolo e dalla miniatura calci di rigore però cosa ho pensato i calci di rigore non li so tirare tra l'altro chef franco come dice di solito i ma mori fama quindi come posso guadagnare dal fatto che non so tirare calci di rigore tirate 50 calci di rigore per ogni rigore che sbagliate mi date un euro posso guadagnare 50 euro c'è oggi ragazzi come vedete ovviamente non sono solo ci sono tutti gli amici di cristian chef franco ciao 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 ragazzi se siete pronti io sono pronto cominciamo siamo nati però ma manca in euro andiamo della maglia c'è non solo la qualità la maglia di gervino è più bella ma è bella e cominciamo ciao ragazzi il portiere di oggi per questa sfida particolare di calci di rigore e cristiano ragazzi cristiano io oggi chiaramente tipo per te che più rigori pari e più soldi tracene in dei sacchi super alla ci sta dai sfida accettata andiamo ma è il primo a tirare il calcio di rigore c'è una linea primo euro primo euro c'è franca stacce di rigore le cose su vai secondo ricordi per chef che sto segno se va a fare come ora c'è la rosa per me ora c'è la rosa per me mai 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 cosa domenato ma non è cosa dove ricorda come si fa e voglio dire per cristiano scemi post lo conosci ugo dogo do vai steso per terra nuovo distrutto 3 euro a super halla non li sai tirare ma perché da chi ho preso a tirare i culi quinto ricorda per chef vai quinto chef vava a tenate nara fai l'uso bravo cristiana rock magari i primi romo che ci ha armati vediamo io ormai ho perso le speranze questo è il sesto rigore per chef ma ti fai capire ti fai capigiano alla ricorsa comunque buono così perché già so che cosciale non guadagna in euro già su 6 euro è già già questo è l'ultimo ricorda questo è l'ultimo ricorda questo ottavio all'inizio ragazzo così all'inizio stata una tattica dai tu sono un po più forte due ricordi segnati quindi questo è abbastanza di buoni a me chi mi salva che si ammassimi vieni ok ragazzi adesso tirerò io a lui papà vai primo rigore per cristian massimino è cristiano è uno siamo favori io non tengo dubbi con il pericolo è bravo altrimenti tiri pure mai chiede è tiri buono ma raccomando non sbagliare o pressione per il massimino è cambiato con euro ho sangue c'è la prova che si è fatto vecchia ma te ne fatti giù c'è la prova che ti devo dire forte bravo allora la mia tu stessi quarto rigore ma che ne so secondo me sai perché sta trattando così stiamo innamorata la love story stasera attenzione o quarto rigore eh primo euro primo euro guadagnato da cristian massimino allora che tra tre ricordi bellissima questo qua ci sta pure ci può stare ci può stare devi fare un intimorio a chi stima a vedere non pensare cristiano è con me ehi che coscia la fatta eh 54 anni una volta sesto rigore la gufata è il fratello quindi secondo euro guadagnato da massimino questo è il settimo dai questo è il settimo bravo il rigore forte bravo bravo cristiano non li tira nemmeno la mezza altezza ultimo rigore per massimino bravo superato solo 2 euro è vero vabbè fai un ragazzino allora lì ho superato il maestro allora ora devi decidere il rigore giacomino oh oh giacomino mi raccomando concentrati se no hai cacciare i soldi ciao mo se segni tre rigori ti offro un panino tre faccio la dimostrazione faccio vedere chi sei vai giacomo primo rigore per giacomino bravo bravo giacomino è meglio e meglio giacomino ha un panino giacomino vuole il panino oh giacomo calma vai bravo piazza come è in vegan euro giacomino bravissimo calma 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 2 su 2 hai fatto vai bravo un panino cristiana cristiana caccia il panino ehi chi si già sta facendo il brucchio un giorno un panino a giacomino il quarto vai cristiana è traversa è il gollo è il ragazzo questo è il gollo è il gollo allora devo dire si può vedere bar bar allora why you abbiamo visto il bar non ti vede bene non lo riesco a vedere bene vabbè fai decidere a loro però dobbiamo decidere ora la maggioranza è il gol o non è gol per me pure è entrato per me non è entrato per me è gol allora dice la maggioranza però ragazzi voi nei commenti fateci sapere se secondo voi è gol o non è gol quinto rigore vai giacomino mi spagliare giacomino tutti e otto il segno nooo l'ha tirato pure lento moltesina mezza secca oh questo c'è giacomino sei emozionato è la classe 5 rigori di fila 5 rigori di fila gli ultimi 3 giacomino devi capire che la tirate meglio il chef franco mi rimane non l'ho oggi tirato questo è il settimo no è il sesto bravo ma li sta pure spiace che rigoro se non mi guadagnano i minuti che cagò settimo eeeh almeno un euro giacomino però nessuno puntava su giacomino eh attenzione oh questo è il segnale questo è l'ultimo sì secondo l'euro vabbè ragazzi non si poteva fare meglio che si poteva fare meglio però io so quello che sono questo fine ma non ho fatto niente noi tra le serie c'è un 6 litri di energia già vabbè faccio un applauso a giacomo eh grande bravo lo scelgo io? sì o lui sa vittorio attenzione vittorio sei stato chiamato in causa fratello di gioie gioie lì gioie lì come ci faccio musica non aprite vittorio fa vai vittorio vai vai vittorio vai vittorio vai 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 non dancela niente sei carico tantissimo ora entrano molti soldi io confidente dai mi pare già non usciare ma vittorio è e ti riporto dai dai vai vittorio si è affimato si me l'ha detto allora cristiano mi l'ha detto quanto faccio fare non so anche i soldi guardalo in faccia vai vittorio vai bene concentrato concentrato l'ultimo segno so vittorio hai sospedale vittorio vai vittorio vai vittorio vai 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 che ti organisation si è ucciso cristiano stupendo soffre a sinistra ho 4 non ha sbagliato 3 1 non ha segnato si soffre a sinistra quinto rigore bravo bravo vinto grazie c'è un angolo che soffre purtroppo di piazza zia patrizio e siamo già a tre di fila vai per ultimo meglio di chef franco comunque bravo è la concentrazione alla fine c'è meglio di chef franco ma lui c'è 4 euro potremmo andare bene ma anche meglio però accettiamo il risultato perché non so buona perfetto quattro euro onesti romana non sai che parla romano no erosi napoli allora lo scelgo io sempre vincenzo vincenzo non mi deludere vincenzo non mi deludere vincenzo sei carico vincenzo sono un po di tubato su vincenzo ooo toto è entrato buono però ma non è entrato vincenzo calma non ti freddo primo euro che entra questo non entra bravo vincenzo vedi quanti ti concentri bravo ma io che è entrato meglio io non so se non mi trovo con il super allanato mi trovo terzo rigore vincenzo è concentrato bravo bravo è purtroppo ciao ma io voglio ciao ha tirato bene questo vincenzo guarda le faccia non guardare il lato bravo sembrava pure il piccolo rigore vai vincenzo settimo rigore bravo vedi 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 vince cazzo rigore forza del pudino forza annaccio annaccio bello amici quindi 4 euro 4 euro sicuramente meglio potete andare però ci sarà 4 euro 4 euro va bene io c'è anche vertigio grandissimo a città la sfida se sale boom segna tutti i otto rigori pago io tutti i soldi che i ragazzi devono dare però si sbagli paga lui invece un'altra cosa io dirò i miei otto rigori dopo li tira super allan otto rigori a ogni rigore sbagliato meno un euro perché super allan devi tirare pure tu questi calci di rigore allora raga manca solo enzo ciale però ho fatto un piccolo recap mi devono 18 euro adesso mancano gli ultimi otto rigori ma in realtà per arrivare a 50 ne mancherebbero altri 2 quindi facciamo così visto che enzo è il rigorista della youtuber league lui ne tira 10 poi dopo a sorpresa ne tirerò altri 8 io se dovessi sbagliare qualcosa attorno i soldi che sbaglio ai ragazzi no 19 euro da pensare continua ma oggi mai visto che hai sbagliato il ricordo meglio che sbagli il capo però è bravo però state concentrato vai no non si credo tu il sapo tutto quanto non stai tirando forte e non sei concentrato con due rigori sbagliati dai inaspettate piazzalo è forte bravo ma mi lascia il primo che è bravo quarto rigore ciale bella bella si però enzo non ti vedi che è concentrato ma stai tirando a muzzarelli e stai tirando lento mezza altezza eh ma hai segnato ma sono lenti che li devo fare andare alla finale fratello forte così guardiamo un attimo a me guardiamo un rigore forte piazzato come ho trattato in alla semifinale testo rigore ciale bravo ha tirato bene questi sui rigori dietro però enzo a mezza altezza ti paro a partire eh eh sono un po' più forti settimo dai vai centrale attrati centrale a me non mi piace centrale arda ci fattorei vai bravo quanto pare vedi quanto pare prova di nuovo l'ultimo bravo hai sbagliato i primi due primi due dovevo capire un attimo la situazione comandava poi ho preso la mano anzi meglio dire il piede e poi le ho segnate 2 euro mi devi facciano riempirsi però là ma vabbè fammi di che stia fa ma destini forti buoni forti destini deboli come di detto è mio a mai essere forti perché? perché si è meglio forti hai ragione chef allora voglio adesso tocca a me come ho detto devo tirare i miei otto rigori non sono tanto bravo quindi vediamo se perdo qualche euro oppure i 20 euro vengono a casa con me sono pronto otto rigori per me allora secondo rigore vai ti faccio Giova bravo che cazzo stai meravigliando ma non ti ne hai lasciato se segna gli dobbiamo dare qua io ti coglioni qua io ti coglioni è ritornato super alto è ritornato ne stai tra è stai tra come a me allora Giova io sono scherzo ma tu secondo me mi riporto per come? c'è chi stai con? oh per ti che cazzo che cazzo Cristian io che parla perché? Cristian ti parla un pesce ma che saccazza ti devi calmare e poi io ciao che cazzo ciao e vabbè abbiamo deciso il rigorista io super all'anno quinto rigore bravo Cristian già si vede il super all'anno che è ritornato ciao ci ho mai fatto a segnare di rigore ciao tu si storto quando ti dice forse non hai capito fai uccidere il giro di super all'anno comunque se erano a dire Giovanni c'erano tornati a soldare all'ultimo segnala chi stiamo l'ultimo rigore di Cervigno la finale sto spazio ah si nasce mi è piaciuto tre rigori l'interno l'idea c'era quegli occhi che guardano eh ma il pallonetto ben ha fatto l'idea c'era allora secondo me ce la sente giugato meglio te sono convinto ce la sente giochi meglio di super all'anno si attenzione perché comunque io nonostante ho sbagliato cinque rigori c'è qualcuno che deve sborsare oh ma ci vede allora in totale erano venti rigori e c'è una la venti euro poi ha deciso voglio tirare anche io ha tirato lui ho sbagliato i cinque rigori e sono quindici che stia vende fa una cosa cinque rigori dopo che tu muori di fama che c'è da si vede l'uomo è la mia e gli amo a cogliere il frau e l'anzio e l'anzio ciao vindevo